Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video unboxing con ben due pacchi a tema Harry Potter. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutto il loro catalogo. Questa è una maglietta Pampling a tema anni 90 che mi è appena arrivata e che io amo già tantissimo e che trovate naturalmente su Pampling assieme a tantissimi altri fandom e ragazzi roba davvero super nerd. Ma detto questo direi di cominciare subito con il nostro unboxing e prima di aprire i pacchi potteriani abbiamo questo pacco che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Picture Home Entertainment e contiene un film, io già so qual è, che è davvero fighissimo e che non vedevo l'ora di guardare. Si tratta di Yesterday. Io quando ho visto il trailer in televisione mi è subito piaciuto, mi ha subito colpito, non sono andato al cinema a vederlo, non ho avuto modo e tempo e quindi io adesso lo recupererò alla velocità della luce. E questo film di cosa parla? Parla di Jack che è un cantautore squattrinato che non riesce ad avere successo e che a seguito di un incidente si risveglia in un mondo dove i Beatles non sono mai esistiti ma lui ricorda tutte le canzoni, lui si ricorda dei Beatles e coglie questa palla a balzo e quindi propone al mondo le canzoni dei Beatles e tramite queste riuscirà appunto ad avere un successo smisurato. Io non vedo l'ora di vederlo, è stato molto molto acclamato e mi piace tantissimo anche questa edizione con l'amare gialla, è davvero molto molto bella e mi stanno davvero piacendo tantissimo questi film musicali che stanno andando molto in questo periodo come tutti i vari biopic tipo quello di Elton John, quello di Freddie Mercury, mi stanno piacendo davvero tantissimo e quindi non vedo l'ora di vedere anche questo Yesterday. Fatemi sapere sotto nei commenti se l'avete già visto, se vi è piaciuto e naturalmente ragazzi trovate il link sotto in infobox. Ma adesso passiamo ragazzi ai due pacchi potteriani. Uno mi arriva da EMP e ragazzi contiene un Funko Pop che bramavo da mesi e mesi e l'altro invece ve l'ho postato su Instagram, qualora non mi seguiste Antonio.seria mi trovate facilmente. Avevo messo una foto di questo pacchetto, questo è un pacco che mi è arrivato dal making of di Harry Potter, dai Warner Bros Studio Tour. È un mio acquisto, non è un loro regalo ma quando ho ricevuto il pacco che era fatto di plastica, aveva del pluriball attorno, l'ho aperto e mi sono ritrovato questa meraviglia. Ragazzi, credo sia uno dei pacchi più belli che io abbia mai visto nella mia vita, pacchi acquistati da uno store online. C'è anche il timbro ufficiale Warner Bros Studio Tour, questa etichetta con il logo del tour e un adesivo. È davvero molto molto bello e da quello che ho capito tutti i loro ordini vengono spediti in questo modo. Cosa ho acquistato? Vi ho messo un po' di curiosità su Instagram, ho acquistato una cosa che non avevo trovato quando andai ad ottobre a visitare gli studios. Una cosa che volevo assolutamente comprare ma che purtroppo era esaurita. È andata di nuovo in assortimento online sul sito del Warner Bros Studio Tour perché si può acquistare anche dal sito, non tutto quello che trovate sul tour, ma una buona parte delle cose sì. E le spedizioni costano 9,90€, 9 stelline e 90€ per spedizioni fino a mezzo chilo. Poi più è voluminoso il pacco, più è pesante e più costano le spedizioni. Io ho pagato la fascia base 9,90€. Ma prima di aprirlo vorrei aprire questo qui di EMP così vi faccio vedere quello che c'è all'interno. Andiamo ad aprire questo pacco perché ragazzi è qualcosa che vedo su Instagram da settimane e non ce la facevo più ad aspettare. Bene, ecco qui abbiamo il classico adesivo, ne ho già tantissimi. Un buono sconto da 6,66€ su una spesa minima di 49,99€. Quindi sempre ottimo da utilizzare, altra pubblicità, poi l'ordine e ecco qui ragazzi il mio pop. Devo dire che ormai EMP imballa tutto molto molto bene, non ho mai ricevuto nell'ultimo anno e mezzo un pop non mint. Sono sempre arrivati in perfette condizioni, ormai vengono utilizzate spessissimo queste buste, c'è sempre praticamente queste buste col pluriball e addirittura quando mi è capitato di acquistare i Funko Shop o comunque prodotti esclusivi mi sono arrivati all'interno del sorter originale. Sarebbe quella confezione di cartone su misura che avvolge il pop e che riporta proprio la dicitura, il codice del pop sulla scatola. Quindi sui pezzi, quelli molto molto rari o comunque più costosi, Funko Shop c'è addirittura una protezione in più. Io mi trovo sempre benissimo e ragazzi eccolo qui, finalmente tra le mie mani si tratta di Fiero Becco Flockhead, esclusiva per l'Europa di EMP Italia. Ragazzi sono assolutamente in estasi, è davvero un pop bellissimo che adesso andrò ad aprire. In molti si sono lamentati degli occhi perché erano usciti dei render con gli occhi neri e poi in realtà invece il pop ha gli occhi arancioni. Perlomeno l'unica versione esistente di questo pop è questa qui, floccata con gli occhi arancioni. Probabilmente uscirà una versione non floccata, quindi di plastica, di vinile, e quella magari avrà gli occhi neri. Potrebbe essere semplicemente un leak o che Funko abbia sbagliato a rilasciare quel render con gli occhi neri e l'abbia rilasciato prima del tempo, ma ragazzi al momento l'unica versione ufficiale esistente di Fiero Becco è questa qui con gli occhi arancioni e floccata, quindi adesso non ci resta che aprire la scatola. Ragazzi è bello, è davvero molto molto bello. Guardate è pesante, all'interno è pieno, quindi non è leggero, è tutto floccato ed è floccato davvero benissimo perché hanno utilizzato molte sfumature di grigio, non è una sola sfumatura di grigio che va a ricoprire tutto Fiero Becco e il becco, gli occhi e le zampe anteriori sono le uniche a non essere floccate poi il resto è tutto floccato ed è davvero fatto molto molto bene ragazzi, mi piace tantissimo anche con gli occhi arancioni, devo dire che nel film Fiero Becco ha gli occhi tendenti al giallo sono abbastanza giallognoli, quindi direi che l'arancione ci può anche stare. Il nero è carino, è comunque bello, non si può dire che non sia bello, però secondo me arancione ci sta tutto quindi va benissimo anche così. Ragazzi fatemi sapere se voi l'avete preso, io vi lascio il link sotto in info box alla sezione Harry Potter su EMP al momento i pop di Fiero Becco sono ancora disponibili, non so in quali quantità perché era abbastanza limitata però controllate, date un occhio perché potrebbe essere ancora disponibile quindi ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e adesso non ci tocca che aspettare l'arrivo del Patronus del Cervo di Harry che, incrociamo le dita, dovrebbe arrivare anche su EMP quindi incrociamo le dita, seguitemi su Instagram Antonio.seria qualora dovesse esserci qualche notizia ufficiale da parte di EMP vi farò naturalmente sapere nelle mie storie. E adesso è giunto finalmente il momento di aprire questo pacchetto ragazzi voi non potete capire quanto mi dispiace doverlo aprire, dover rovinare questa bellissima confezione ma tant'è bisogna aprirla quindi prendiamoci di coraggio, andiamo a sciogliere il nodo questo assolutamente da conservare, molto molto carino e vediamo cosa c'è all'interno mi sa che dovrò andare a recuperare i miei bisturi perché non l'ho preso non ce n'è stato bisogno, era abbastanza semplice da sciogliere quindi adesso andiamo ad aprire da questa parte e vediamo cosa c'è all'interno ok, ecco qui la scatolina niente, bisogna strappare la carta mi dispiace davvero tantissimo abbiamo questa scatola in polistirolo e ragazzi mi sa niente a questo punto devo per forza prendere il bisturi perché è tutta scocciata eccolo qui, mi sono arreso all'evidenza quindi andiamo ad aprire questo polistirolo io non vi ho ancora detto cosa contiene ma è giunto il momento di farlo al Warner Bros Studio Tour è stata aggiunta di recente l'ultima espansione che è quella relativa alla Gringot e grazie a questa espansione è arrivato anche il merchandising ufficiale della Gringot io ho acquistato la chiave della camera blindata e volevo tantissimo acquistare anche il lingotto ufficiale la replica di un lingotto d'oro della Gringot purtroppo erano esauriti, erano finiti quindi mi sono messo l'anima in pace finché non è stato di nuovo disponibile sullo shop e quindi l'ho acquistato immediatamente il lingotto ha un costo di 15 sterline quindi non costa poco però è una replica ufficiale in metallo e quindi spendere circa 18-19 euro una roba del genere ci può anche stare visti i prezzi di Noble Collection che sono altrettanto alti se non di più quindi l'ho acquistato, mi sono preso di coraggio purtroppo ho dovuto pagare 10 sterline in più però ragazzi credo che ne valga assolutamente la pena eccolo qui, guardate che bello, guardate come è imballato benissimo all'interno del polistirolo c'è anche il prezzo qui dietro, 15 sterline e adesso vado a tirarlo fuori ragazzi è davvero bellissimo guardate è tutto ricoperto da una plastica che magari adesso andrò a rimuovere ma è davvero molto molto bello sul fronte troviamo inciso il logo della banca della Gringot infatti c'è scritto The Bank of Gringot e poi abbiamo un codice inciso qui sul fronte e poi una G che probabilmente sta per gold e poi 999 e tre quarti questo tre quarti credo sia proprio una citazione per il binario 9 e tre quarti e ragazzi dietro è totalmente logato Warner Bros Studio Tour Harry Potter The Making Of io naturalmente vi lascerò il link sotto in info box qualora voleste acquistarlo io probabilmente farò un ordine più avanti dove prenderò un po' di dolciumi di Mielandia prenderò anche qualche altra cosa come la ricordella o le orecchie oblunghe sono delle cose che volevo acquistare però tutte le una volta veniva abbastanza pesante la spesa quindi piano piano le comprerò quindi sono super super contento sia del mio lingotto che dell'arrivo del pop di Fiero Becco ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti fatemi sapere se vi sono piaciuti questi acquisti se voi li avete fatti, se possedete già uno di questi prodotti e ragazzi naturalmente a me adesso non resta che salutarvi chiedetevi di lasciare un mi piace, commentare il video condividerlo con i vostri amici iscrivetevi al canale e non postate ancora iscritti e naturalmente noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao